Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Drink Beer and More Visto che siamo stati sotto San Patrizio è giusto anche fare un video di una birra irlandese E quindi oggi non abbiamo la Guinness ma abbiamo la O'aras Sì abbiamo la O'aras, è una birra irlandese quindi una Irish Red Di questa c'è anche la Chiara in IPA ma questa è una ale rossa Andiamo subito comunque a vedere la bottiglia che comunque ha un packaging abbastanza interessante C'ha queste cose, queste boh, cioè non so come definire comunque il disegno e il packaging è molto molto bello Io ho assaggiato come dicevo prima appunto ho assaggiato la IPA Chiara e devo dire che comunque era buona Il particolare, sempre dire queste cose del particolare però comunque è una birra buona Andiamo a vedere appunto questa rossa perché sono interessato ad assaggiare questa birra Comunque come prezzo questa birra si gira intorno ai 3 euro e mezzo Quindi l'ho presa in un negozio centro commerciale, non centro commerciale Diciamo un negozio dove vendono alimentare quindi l'ho pagata poco, si trova in giro E' facile trovare in giro, non è difficile Come tutte le birra che bevo io, che voi non riuscite a trovare Che io vi dico sempre dove prenderla, ma voi mi dite sempre che non riuscite a trovare Vabbè, andiamo ad aprirla e vedere un po' Come un profumo intenso Andiamo a versarla Si presenta come una birra scura perché comunque essendo una rossa è abbastanza scura Non è chiara come la birra appunto che ho fatto nel video precedente E' una birra comunque una rossa scura Ha una schiuma molto persistente Devo dire che C'ha un bel odore di indietro Il colore direi che va dal rosso rubino intenso Rosso rubino intenso Aspettiamo un attimo che si smonti un po' la schiuma Perché comunque questo è il modo giusto appunto di versare una birra dentro un bicchiere Perché io lo faccio sempre male, ma questo è il modo giusto Bisogna farla ossigenare in modo che vengono fuori tutti gli aromi Eh sì, vabbè, l'assaggiamo e il resto poi lo vediamo dopo Allora, come birra questo qua di impatto subito E' una birra pulita, è una birra molto gradevole Quindi è una birra beverina E devo dire che comunque ha il suo lato iniziale dolce E va verso l'amarognolo in fondo appunto del lupolo Però devo dire che comunque è una birra buona Io sapevo già più o meno da che lo Aras Era una birra molto buona perché l'avevo già provata appunto nei giorni scorsi In un locale che c'è stato appunto San Patrizio Quindi l'ho provata a confronto alla Guinness E' un'altra cosa questa qua Ma devo dire che comunque dai suoi 4 gradi,3 E' una birra gustosa E' una birra gustosa che direi che si potrebbe bere in ogni occasione Non è pesante, essendo un pochino frizzante Ma non è troppo pesante Direi che come voto io gli darei un bel 8 Perché comunque è una birra che Si è una birra commerciale che si può trovare in giro facilmente Però essendo comunque una birra delle tante irlandesi Perché non c'è solo la Guinness Direi che comunque è una birra molto buona E' un birrificio che produce bene E' un birrificio che non fa birre particolari quindi strane Quindi potete andare sul sicuro se dovete comprare qualcosa di più Diverso ma allo stesso tempo buono Perché questo qua è una birra buona Quindi ve la consiglio E continuamente vi sto prendendo birre e ve le consiglio tutte Non sto facendo birre che vado sul sicuro e poi non ve le consiglio No, no, questa è una birra che ve la consiglio Poi comunque le cagate ridaranno Magari vengo la birra che mi fa cagare e ve la sconsiglio Comunque questa ve la consiglio Essendo comunque una birra rossa direi che comunque potete abbinarla con qualsiasi cosa Anche poi al balcone con una sedia Vi mettete lì e vedete la vostra birra a set a posto Questa è una birra buona Niente ragazzi, io spero che questa puntata nuova vi sia piaciuta Anche se ho il riflesso del sole a metà E quindi sembra che non lo so Se dire che sto mangiando un raggio di sole No, allo stesso tempo vi ringrazio nuevamente Vi invito a mettere mi piace al video A commentare e a scrivere un commento Così io vi risponderò Perché io non aspetto altro che voi Mi commentate sotto al video e io vi rispondo Quindi concludendo io vi ringrazio di nuovo Prendo bicchiere e vi faccio alla salute Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata Ciao